Ringrazio intanto Giovanni Ventimiglia per avermi non solo invitato ma anche invitato a fare una relazione, insomma, in un contesto così importante per me. Comincio da una citazione dal manoscritto delle lezioni sulla filosofia della religione che dice Questa asserzione, frequente in Hegel, sembra ricomprendere così radicalmente l'essere nel pensiero come il suo più astratto indeterminato inizio, da assorbire totalmente la domanda Dio esiste nella domanda che cos'è Dio? Non solo, essa fa apparire del tutto irrilevante la questione dell'essere di Dio rispetto alla costituzione del concetto assoluto come tale. La filosofia hegeliana, raccogliendo fino in fondo la spinta autoreferenziale del pensiero moderno, spianerebbe così definitivamente la strada al superamento della religione in una più alta figura della verità tutta interna alla ragione. L'idea assoluta della filosofia. Ecco, proprio rispetto a questa connotazione un po' affrettata, un po' troppo sincopata del pensiero di Hegel, diviene particolarmente interessante la riabilitazione hegeliana delle prove tradizionali dell'esistenza di Dio dopo la demolizione che ne aveva fatto Kant. Esse implicano infatti per molti aspetti un movimento inverso al mero riassorbimento dell'essere nel pensiero. Presentano cioè non una dissoluzione, ma al contrario una crescita progressiva del peso dell'essere che culmina poi, in un modo del tutto speciale, nell'interpretazione hegeliana della prova ontologica. Questo è il motivo per cui mi soffermerò con più attenzione sugli argomenti attraverso i quali Hegel si è proposto di riportare agli onori, wieder zu Ehren zu bringen, la prova ontologica. Tuttavia, anche nella lettura hegeliana delle prime due prove, nelle quali si può pur vedere un passaggio dall'essere al concetto, come dice lui stesso, si delinea però altresì un passaggio dall'esistenza da Dasein finita, all'essere proprio, sein sein, come dice lui, del concetto di Dio, alla determinazione dell'essere nella sua verità. È una citazione dalle lezioni di filosofia della religione, sempre dal manoscritto, che non si lascia contenere nella direzione consuetamente attribuita a una filosofia idealistico-soggettiva. Lo sforzo hegeliano di liberare il movimento delle prove dal fraintendimento che le ha investite a causa del formalismo logico, come lo chiama lui introdotto in esse, getta inoltre una luce su una delle questioni più complesse e più oscure del sistema hegeliano. Quel libero passaggio dell'idea nella natura e nello spirito finito, senza il quale essa non palesa ancora la sua assolutezza, il suo carattere di spirito assoluto. Lo svolgimento che preme dall'interno il concetto metafisico di Dio, quello che lui chiama il concetto metafisico di Dio, sta anche al fondo della tanto criticata ambivalenza del rapporto tra filosofia e religione. Sviluppa infatti un movimento di adeguazione e di elevazione del concetto di Dio alla rappresentazione concreta della religione compiuta, al Dio cristiano trinitario, attraverso il quale tuttavia il pensiero hegeliano ritiene di poter giungere alla comprensione dell'assolutezza della ragione. Attraverso questa elevazione al carattere vivente dello spirito, l'unità di pensiero ed essere raggiunge infatti per Hegel la forma propria della razionalità, nella quale la religione deve poi a sua volta trovare rifugio. Questo percorso circolare sfida in profondità la comprensione filosofica, innanzitutto perché a mio giudizio si lascia sfidare profondamente dalla differenza tra pensiero ed essere e dalla libertà in cui questa differenza è da ultimo immessa in Hegel. Nella strutturazione della filosofia della religione hegeliana, la sezione dedicata di volta in volta al concetto metafisico nei corsi del 1821 e del 1824, analizza la forma logica del concetto di Dio nei due stadi della storia delle religioni, anzi nei tre stadi della storia della religione, prima di entrare nei contenuti delle singole concrete rappresentazioni religiose. Essa si presenta così come una sorta di ripresa della teologia razionale in un contesto che però ne mette subito in crisi la pretesa autonomia e purezza. Ecco perché negli ultimi due corsi la sezione concetto metafisico sparirà. Nel concetto di Dio emerge infatti subito la compresenza irrequieta di due aspetti. Come essere, sein, dello spirito, tale concetto è per un verso lo spirito ritornato nella sua semplicità e unità immediata. Cito, nella religione lo spirito si svincola dalle sue figure finite, ritorna nuovamente in sé nella propria semplicità e in questo modo lascia emergere più precisamente l'elemento logico, fino alla citazione. In questo ritorno nel concetto l'essere di Dio è raggiunto solo nel distacco da ogni esistenza finita e accidentale, come il fondamento ultimo, come l'essenza che in un certo senso si ritrae dal mondo. Ma per altro verso l'essere è appunto dello spirito, perciò esso contiene la mediazione, si determina in rapporto a se stesso. E così il concetto di Dio implica non solo il passaggio da un contenuto a un altro, ma anche il toglimento della propria stessa determinazione in contrapposizione all'altro, al finito, e l'affermazione di sé come il risultato di questo iltero processo. Un tale sviluppo, fino al suo modo peculiare d'essere, è il momento necessario del concetto di Dio, il quale, mentre si determina rispetto ad altro, si mostra in questo come sussistente in sé per sé. In termini hegeliani questo significa che non resta nella condizione di mero presupposto rispetto ad altro, ma si determina necessariamente come totalità, la quale a sua volta non va intesa come l'insieme di tutti i predicati affermativi, che presi come tali alla fine producono la mera indeterminatezza, ma come l'attività di determinarsi rispetto ad altro, di entrare nella finitezza e di raccogliere nell'unità all'opposizione di finito e infinito. Il sommovimento interno all'elemento metafisico del concetto è visibile per Hegel nell'andamento delle prove dell'esistenza di Dio, le quali del resto costituiscono l'intero contenuto della sezione dedicata al concetto metafisico nelle lezioni. In quanto restituiscono il dinamismo essenziale del concetto di Dio, le prove acquistano il valore di esplicazione di un tale concetto, mentre d'altra parte, in quanto passaggio da un contenuto a un altro, cito, sono l'esplicazione della religione stessa in quanto elevazione al sapere di Dio. Il concetto metafisico è per Hegel il concetto astratto. Quando però si definisce astratto il concetto, questa definizione affronta un'articolazione della negazione che non si lascia ridurre alla mera eliminazione, alla rimozione di qualcosa. Il concetto infatti è l'unità che si determina e in questo resta presso di sé come totalità. Qui dunque definiamo astratto quel modo d'essere metafisico che contiene in sé la mediazione, che ha l'essere come propria determinazione, che è insieme l'essenza e la manifestazione. Il concetto astratto è il concetto bensì ritornato nella semplicità, ma in quanto trattiene totalmente in sé la forma che lo specifica, o per usare l'espressione hegeliana, in quanto è in sé per sé. Questo ambito metafisico cui il pensiero si innalza nella misura in cui supera il momento meramente distruttivo dell'astrazione stessa, e in essa coglie il potere del pensiero di accedere a ciò che è mediante sé stesso e nello stesso tempo alla propria libertà, merita per Hegel di essere difeso. Egli deplora perciò che, cito, dalla filosofia kantiana in poi, questo elemento metafisico, dieses metaphysische, sia rigettato come qualcosa di infimo, spregevole e trascurabile. Metafisico è il concetto puro, l'idea come unità di pensiero ed essere nella loro più profonda congruenza. In essa, per dirla con Aristotele, l'intelligenza intelligibile diventano lo stesso e in ultima istanza sono lo stesso. Hegel difende con nettezza tale risultato ultimo e necessario dell'astrazione metafisica dall'usia physique o estete. Difende l'accesso a un'altra usia. Cosa rende allora ancora difettiva una tale astrazione? E dunque il concetto metafisico di Dio. Una possibile risposta a questa domanda che scuota in profondità la filosofia hegeliana, la quale ha fatto dell'idea assoluta sia un momento del sistema sia la totalità del sistema, si ricava dall'interpretazione delle prove. Il concetto metafisico di Dio contiene le distinte determinazioni di pensiero ed essere, si determina nella sua separatezza come pura relazione a sé, afferma un proprio essere. Tuttavia nella sua suprema semplicità tiene lontane le distinzioni dalla propria unità, si costituisce negando la loro autonomia e posto prima presupposto a fondamento di esse, che sono solo suoi momenti ma non sono sviluppate come totalità indipendenti, libere l'una rispetto all'altra. Così il concetto metafisico discende nella più profonda antinomia, è internamente attraversato dalla contrarietà, la acuisce, per usare un termine hegeliano, fino alla contraddizione, perché unifica escludendo e riconcilia allontanando da sé. E la misura di questa straightezza ultima del concetto metafisico viene innanzitutto dalla nostra, cito Hegel, dalla nostra più profonda rappresentazione di Dio, dal Dio della religione. Qui è la rappresentazione a fungere da principio critico del concetto metafisico. Essa ne illumina l'antinomia interna e la offre come superata nella raffigurazione di Dio quale spirito. Le prove ripropongono il limite del concetto metafisico. In questo caso è la forma deduttiva dell'argomentazione a lasciare un presupposto estraneo al movimento della prova, per cui anche il concetto di Dio, nella sua forma di mero risultato, resta ogni volta inadeguato alla sua forma concreta di spirito. Ma Hegel orienta questa critica a una riformulazione della razionalità. I limiti del concetto metafisico di Dio, e dunque anche delle prove, non sono per lui l'urto contro una verità estranea a questo concetto. Indicano piuttosto il processo di adeguazione di un tale concetto alla sua forma propria attraverso una profonda trasformazione, una radicalizzazione del suo carattere unificante. Il concetto metafisico di Dio, questa la tesi di Hegel, risulta ancora astratto rispetto al concetto speculativo di Dio, che sviluppa come totalità entrambi i lati dell'opposizione, finito e infinito o nella prova ontologica pensiero ed essere, e riprende la propria unità attraverso l'eguaglianza degli opposti. Quest'idea di razionalità conferisce alla fine un peso centrale alla spinta verso la realtà concreta dello spirito che storicamente è provenuta dalla rappresentazione religiosa e in particolare da quella cristiana. Il concreto sviluppo spirituale di quest'ultima, infatti, manifesta un carattere profondamente interno alla ragione, tanto che per Hegel la religione cristiana è, cito, la rivelazione della ragione a se stessa, enciclopedia. Una simile concezione della ragione, che fa della filosofia, come dice Hegel, non una sapienza mondana, ma una conoscenza del non mondano, implica uno sviluppo critico rispetto alla propria determinatezza, un libero distacco da sé e un ritrovarsi nella propria unità con l'altro. Il libero sviluppo della ragione fino alla concretezza viene contrapposto all'approccio della teologia razionale, in particolare moderna. Per quest'ultima, la rappresentazione di Dio proveniente dalla dottrina religiosa, indubbiamente, come dice Hegel, costituì il criterio per la conoscenza. Ma questo criterio nella teologia filosofica è rimasto esterno al pensiero, che invece ha da muoversi, come dice Hegel, liberamente per sé. Ebbene, proprio il mancato libero sviluppo del concetto razionale ha fatto sì che, cito, quale concetto di Dio sia risultato solo l'astratto della positività e della realtà in generale, con esclusione della negazione, e Dio fu definito conseguentemente come l'ens realissimum. Fine la citazione. Isolando la sola razio, non svolgendola fino alla concretezza dello spirito, la teologia razionale non ha potuto più ritrovare la concordanza con la religione cristiana. Invece, nell'assetto più antico, premoderno delle prove, nel loro sforzo di risalire all'essere proprio di Dio, lo sviluppo che preme dall'interno, sul concetto metafisico e al contempo il carattere specifico dell'elevazione religiosa a Dio, avevano trovato una loro profonda espressione logica, il cui vero significato, come si esprime Hegel, va restituito al suo valore. Hegel vede in generale nel rapporto con l'essere, esplicato dalle prove, lo sviluppo decisivo del concetto nella sua concretezza. Per questo, proprio nelle prove, e in particolare in quella che per lui è la versione anselmiana della prova ontologica, egli ritiene di poter reperire gli elementi per l'esplicazione del concetto speculativo di Dio. La connessione tra Dio e il suo essere è propriamente l'obiettivo delle prove. Nel raccogliere l'espressione scolastica, come sappiamo noi, tommasiana, Hegel vi opera però poi a modo suo, mostrando cioè anche i limiti del concetto metafisico di Dio. A proposito delle prove in generale, egli fa notare che l'esistenza è essere finito e determinato, mentre l'essere di Dio non è in alcun modo limitato, per cui più precisamente, parlando del tema delle prove, cito, sarebbe meglio dire Dio è il suo essere, la sua realtà, Wirklichkeit, la sua oggettività. La prova cosmologica e quella fisico-teologica definiscono proprio questo passaggio dal finito all'infinito. L'essere però resta, d'altra parte, l'elemento comune ai due termini. Il contrasto generato dal duplice obiettivo della discontinuità e della continuità non può arrivare in queste prove a soluzione, perché il sum-s di Dio è incorniciato rigidamente nella contrapposizione tra finito e infinito. Per un verso nella lettura hegeliana, anche queste due prove in realtà approfondiscono l'essere di Dio non attraverso la mera negazione dell'essere finito, ma attraverso un rovesciamento per il quale il punto di partenza, il Dasein, l'esistenza delle cose finite, è il presupposto che si toglie, che contiene in se stesso la negazione. A proposito dell'ens necessarium, per esempio, Hegel osserva che il passaggio della prova cosmologica non porta dal finito mutevole a ciò che dura in esso e che sarebbe il perenne mutamento. Perché in questo caso ciò che muta e ciò che dura stanno senza passaggio l'uno di contro all'altro. E il risultato, solo apparentemente paradossale di una simile contrapposizione, è la consacrazione del mutevole. Il finito passa incessantemente in un altro finito, generando il cattivo infinito, la perenne negazione di un altro. Nel vero significato delle prime due prove, Hegel non vede invece la semplice forma della contrapposizione. In esse, in realtà, è il finito a togliersi, a passare nel suo vero altro. Nel determinato che nega il determinato, nell'altro che nega l'altro, è già contenuta la vera affermazione. Il finito, passando in un altro finito, passa anche in se stesso. L'altro va con se stesso. nell'altro arriva a se stesso. Questa è una citazione di Hegel. Ad un'eguaglianza con sé, alla sua relazione con sé. E proprio in questa relazione con sé si toglie come finito, passa nel suo vero altro, l'infinito. Il termine del passaggio non è pertanto la semplice negazione di altro, ma è anche il risultato affermativo, il togliersi della negazione. Cioè l'essere, Sein, di Dio, il suo essere infinito, nel quale il finito è solo ideale e, cito, la distinzione non entra dall'esterno. Questa inquietudine sta in lui stesso, come negazione della negazione, e si determina più precisamente come attività. Il movimento di queste due prove non è dunque un percorso nichilistico in cui Dio emerga dalla distruzione del finito. Dio emerge piuttosto come il vero essere, mediante il passare del finito stesso nell'infinito. Nel suo carattere non semplicemente negativo, ma dialetticamente affermativo, un tale passaggio per Hegel da sempre caratterizza il cammino di elevazione proprio della religione, talmente radicato nel sapere umano da non poter essere estirpato da nessuna critica. Tuttavia la forma lineare di ascesa, Aufstieg, ne restringe per Hegel la funzione di momento logico autonomo solo all'interno delle religioni determinate. In generale il limite di queste due prove sta per Hegel nella resistenza dell'opposizione tra finito e infinito. Questo difetto è dovuto certamente alla forma sillogistico deduttiva delle prove, che fa apparire il finito come presupposto altrettanto fermo quanto il risultato che poi lo soppianta nella posizione di condizione necessaria. Ma anche quando si dovesse cogliere il loro vero significato, anzi quando si colga il loro vero significato nel rovesciamento del percorso deduttivo, che non lascia affatto sussistere il presupposto finito, queste prove comunque si mostrano intrinsecamente catturate nel concetto metafisico di Dio e insufficienti per la comprensione della sua piena concretezza di spirito. Il loro limite intrinseco sta nell'unilateralità del movimento meramente ascensivo, o come dice Hegel, nel mantenimento di una connessione finita tra i due estremi dell'elevazione. Dio vi compare come l'assoluto che risolve nella sua unità i momenti distinti e risulta come tale ritornato nella sua semplicità. Nella sua purezza metafisica, però, l'assoluto è tenuto fuori dal movimento della prova. Un tale movimento riguarda il pensiero finito, che passa da una nozione insufficiente di essere all'essere veramente oggettivo. quest'ultimo, in quanto essere necessario in sé per sé, o in quanto vita infinita che è scopo a se stessa, è posto come libero da ogni limitazione, opposizione, accidentalità, aggiunte della riflessione soggettiva. È il vero essere assolutamente per sé. L'essere contingente ne dipende, ad esso va sacrificato e nella misura in cui se ne distingue resta fuori dal vero essere. Così l'essere proprio di Dio sta ancora in un'opposizione e la religione che a un tale concetto corrisponde, o le religioni che a un tale concetto corrispondono, non possono sradicarsi dal timore servile. Tutte le religioni determinate nell'idea che ne ha Hegel. Ma, cito da Hegel, proprio in quanto oggetto assoluto, Dio non sta come una potenza oscura e nemica di fronte alla soggettività, ma la contiene piuttosto in sé come un momento essenziale. Questo è espresso nella dottrina cristiana della religione, in cui si dice che Dio vuole che tutti gli umani siano salvati e vuole che tutti gli umani siano santi. La crisi interna del movimento dell'elevazione religiosa trova espressione proprio nel percorso della prova ontologica, che pure per Hegel, diversamente che per Kant, anch'essa è radicata perfino nella mente, cito da Hegel, nella mente umana più ingenua, anche contro sapere e volere, ed è principio della fede immediata. Tuttavia, poiché prende avvio da un'opposizione più profonda, più astratta, sono espressioni di Hegel, e richiede ancora Hegel la più profonda discesa dello spirito in sé stesso, la prova ontologica implica in effetti una svolta nel cammino di elevazione. Per questo, per Hegel, essa compare solo a un certo stadio dello sviluppo storico della religione. Come egli osserva, infatti, cito, gli antichi, la filosofia greca non hanno questo passaggio, che viene da lui iscritto interamente nel concetto metafisico della religione cristiana. Per Hegel, e questo non manca certo di sorprendere, la grandezza del punto di vista che appartiene al mondo moderno e al suo concetto di libertà risiede in questo caso proprio nell'acutizzazione della distinzione tra pensiero ed essere, portata nella prova ontologica fino all'opposizione. La grandezza del punto di vista che appartiene al mondo moderno è una citazione di Hegel. Proprio soltanto a partire da questo punto di vista può poi venire pienamente in luce il compito supremo della filosofia, che consiste nella riunificazione dell'opposizione infinita, nella quale dapprima, invece, il concetto sembra non aver bisogno dell'essere, come l'anima del corpo. Un'altra citazione di Hegel. Attraverso la prova, appunto, quello che si intraprende è un cammino, invece, in cui il concetto puro di Dio, libero dall'essere di tutto ciò che è, perché è determinato per sé in un suo proprio essere, si determina esso stesso come finito rispetto all'essere immediato, che lascia altrettanto liberamente svilupparsi in un'esistenza oggettiva. Solo in questo modo il concetto si eleva allo spirito, ovvero diviene concetto appropriato di Dio, capace di unificare gli opposti sviluppatisi in totalità libere l'una rispetto all'altra. Il passaggio dal pensiero all'essere, proprio della prova ontologica, si rivela così, cito di nuovo Hegel, l'interesse più profondo della ragione. Non si tratta in nessun modo di una deduzione dell'essere dal pensiero, come pure la formalizzazione moderna dell'argomento anselmiano ha fatto pensare anche per Hegel. Al contrario, il concetto metafisico di Dio, che contiene già questa unità di concetto ed essere, ovvero, come dice Hegel, è realmente mediante sé, per cui sembra non avere più niente in comune con l'ente finito e contingente. Deve sviluppare nel modo più radicale la distinzione, deve contenerla in sé, deve far cadere la sua purezza, il suo essere soltanto pensiero, adeguando effettivamente la sua essenza, ossia raggiungendo l'unità con l'altro da cui si distingue. Nella prova ontologica si compie il passaggio dal concetto all'essere, dall'infinito soggettivo all'infinito oggettivo come essente. Nel delineare questo passaggio, Hegel mette in luce l'importanza che l'estrema scissione tra finito e infinito, nella soggettività concreta dell'uomo, riveste per la comprensione della forma attraverso la quale la sostanza è spirito. Il distacco più profondo dell'esistenza dal pensiero, la penetrazione dentro la coscienza soggettiva della suprema scissione tra l'essere della soggettività e l'essere immediato, per cui quest'ultimo, il resto a sua volta, come dice Hegel, del tutto libero dal concetto soggettivo, sono la base su cui qui lavora l'interpretazione hegeliana del rapporto tra Dio e l'essere. Hegel distingue la prova anselmiana, che parte dall'idea dell'ente più perfetto, dalla versione moderna, che parte dall'omnitudo realitatis e determinandola come quello che non deve avere alcun limite, alcuna negazione, alcuna contraddizione. Non solo la riduce a quello che Hegel chiama una morta astrazione, ma in quanto la fissa come assoluta, incondizionata possibilità, la consegna la giusta critica kantiana, circa la distinzione tra possibilità e attualità, tra realitas ed esistenza. Il presupposto anselmiano dell'essere perfettissimo è invece radicato in quello che per Hegel è, cito, il presupposto che sta alla base di ogni filosofia, e cioè che perfetto è solo ciò che non è meramente rappresentato, ma che è anche reale. Per Kant la presupposizione di un ente perfetto infiscia in radice la prova ontologica, in quanto essa assume sin da principio ciò che era da dimostrare. Per Hegel invece una simile presupposizione non è affatto un difetto della prova, che esplica fino in fondo quel punto di partenza, l'unità di misura della perfezione, assunta del resto per lui, come vedremo subito, anche da Kant. Il difetto che colpisce Anselmo e non solo le versioni moderne della prova è semmai lo sviluppo carente di questo presupposto, la mancata esplicitazione dell'opposizione in cui esso, in quanto presupposto, si trova, e del toglimento dell'opposizione di pensiero ed essere nell'unità. Anselmo non poteva cogliere questo sviluppo come immanente perché il suo concetto di essere perfettissimo rimaneva vincolato a quella separatezza metafisica che solo la rappresentazione religiosa cristiana è stata in grado storicamente di mettere in crisi. E tuttavia nella versione anselmiana ci sono gli elementi per cogliere il vero significato della prova e il motivo dell'importanza centrale che assume in età moderna la distinzione tra pensiero ed essere. Anselmo parte dal concetto di Dio come essere perfettissimo. In un tale presupposto c'è per Hegel da una parte il punto più astratto e immediato di unità di pensiero ed essere. Se è lecito ammettere un presupposto del pensiero, ricorda qui Hegel nelle lezioni, questo non può essere che l'immediata identità con l'essere senza la quale il pensiero non ha ancora la sua forma propria, non è ancora propriamente pensiero. D'altra parte l'idea di un essere perfetto rende intrinsecamente insufficiente questa astrazione. La forma più povera di unità rivela bensì la potenza suprema di astrazione, di distinzione tra la forma rappresentativa dell'unità e il suo contenuto oggettivo, la sua unità concreta. Tuttavia non ridà questo contenuto oggettivo nella sua assolutezza, che non è semplicemente contenuta né contenibile nel concetto soggettivo, ma è effettivamente reale, wirklich, sussistente nella sua forma propria, nella sua verità concreta, nel suo proprio essere. Nel concetto di Dio il carattere di solo pensiero è alla fine tolto radicalmente per Hegel proprio in quanto è tolta l'opposizione di forma e contenuto. Nel presupposto della perfezione è insito il passaggio che la prova è esplicita. Innanzitutto un passaggio dall'astrazione all'oggettività e poi attraverso questo una rivelazione, un farsi palese della razionalità. Il passaggio all'oggettività è il tormento, lo sappiamo, della filosofia hegeliana. Egli vi vede una delle figure dell'immediatezza come esistenza indipendente, distinta dall'essere per altro. Questo è anche il filo rosso che collega, nella rapida ricognizione che traggo dalla scienza della logica, le varie figure dell'immediatezza. Il puro essere, la determinazione più povera con cui comincia l'opera, e l'esserci, l'esistenza, la realtà effettiva, eccetera, fino all'oggettività. In tutte le figure, tranne che nella prima, l'immediatezza è, cito, mediazione che si toglie, essere che contiene la negazione. Però, in tutti i casi, compreso il primo, l'immediatezza è l'essere in quanto non semplicemente posto, risultante da altro, ma in quanto sciolto dalla relazione ad altro, sussistente per sé. L'astrazione rivela, in particolare nel passaggio all'ultima figura dell'immediatezza, l'oggettività, la più profonda potenza di negazione da parte del pensiero, il quale toglie in questo punto lo stesso carattere oppositivo della negazione per esibire la cosa stessa in quanto tale. Tuttavia, anche l'ultima di queste figure, anche l'oggettività per Hegel, non è ancora, cito, l'esistenza divina. Le manca quello che egli chiama il libero decidersi per l'essere, zum sein, senza il quale, d'altra parte, non si capisce fino in fondo nemmeno cosa significhi che l'essere è concepito, in termini hegeliani, a partire dal concetto. Dio è l'essere al quale più che mai si addice, per un verso, l'essere libero dalla relazione con il pensiero. Questo per Hegel è chiarissimo. Questa libertà non deriva però dal supremo potere di astrazione del pensiero stesso, quello che lo rende capace di riferirsi alle cose in quanto tali. Piuttosto il pensiero è tale se si fa esso stesso un momento di un'unità che non è soltanto dalla parte del contenuto pensato. Dio è non uno ma il concetto che è reale come rivelazione, come manifestazione per sé essente, cioè entra nel terreno dello spirito finito che gli sta di contro, l'autocoscienza finita, ovvero la natura umana, si decide ad essere, a determinarsi esso stesso come finito, si fa un momento di se stesso, libera l'altro come uguale a sé. L'esistenza di Dio è più che l'oggettività del concetto rispetto alla quale il concetto soggettivo è mostrato nel suo limite. Essa è direttamente l'ingresso dell'essere assoluto nella determinazione finita, il suo diventare per altro, il suo essere come altro. L'essere altro è coinvolto nell'assoluto, l'assoluto non è anche nell'altro. Hegel lo dice con l'espressione secondo cui lo spirito è solo per lo spirito e c'è una frase ellittica tipica del manoscritto che risulta molto efficace quando definisce lo spirito come totalità di un altro spirito. Lo spirito è la totalità di un altro spirito. L'essere di un tale spirito è concepito a partire dal concetto stesso ed Hegel lo definisce anche quale unità della natura divina e di quella umana. Sulla base di questa impostazione il filosofo tedesco riporta all'interno dello spazio dischiuso dalla prova ontologica anselmiana anche la critica che Kant ha rivolto ad essa. L'apparizione dell'opposizione tra concetto ed essere per Hegel, lo ripeto citando un altro punto di Hegel, è segno che la soggettività raggiunto il suo essere per sé è divenuta totalità. Lo spirito finito coglie in sé la totalità e allo stesso tempo se ne distingue. nella sua finitezza coglie la sua infinità e parimenti lascia l'infinità completamente libera, come un al di là rispetto a sé. Questa libertà reciproca dei termini è segno della comprensione più profonda dell'unità dei due termini. Quest'unità però è la più difficile perché passa per l'ascissione più profonda. Ora, tenendo ferma la concretezza dell'idea di Dio rispetto alla concretezza empirica, Anselmo è andato per Hegel più in profondità di Kant. Cogliendo il concetto come pensiero, egli per come Hegel vede le cose si è collocato nella posizione in cui l'unità ha il carattere radicalmente unificante della conciliazione degli opposti, o detto in altri termini, sostiene anche la distinzione dei termini e non la espunge dalla realtà e dalla verità. Kant condivide con Anselmo l'insoddisfazione per il mero concetto rispetto all'unità concreta di concetto ed essere. Solo che per Kant il concetto risulta imperfetto rispetto all'unità empiricamente concreta, dove il pensiero è solo una parte dell'intero umano, accanto alla sensibilità, la volontà, il corpo, eccetera. Con questo presupposto Kant per Hegel certamente mette in evidenza il carattere originariamente sintetico, o nei termini più hegeliani, l'unità dialettica del rapporto tra concetto ed essere, uscendo così finalmente dalla perfezione astratta che fa da freno al dinamismo anselmiano della prova. Il difetto di questa revisione critica della prova è però che essa non è più in grado di togliere la contraddizione tra la concretezza originaria e la limitazione meramente soggettiva del concetto, limitazione che non si potrebbe però comprendere se non si facesse appello a quella stessa concretezza originaria che nel pensiero si fa palese. La posizione di Kant tiene fermo dunque il presupposto della perfezione, ma in una contraddizione insanabile con l'imperfezione del concetto. A una simile posizione sfugge il carattere rivelativo, intrinsecamente manifestativo della verità. Senza di esso sorge anche un ostacolo all'intimo ma profondamente dialettico accordo tra rappresentazione religiosa e concetto filosofico, nonché tra fede e sapere. Concludendo, se per un verso la domanda Dio esiste viene interamente ricompresa in Hegel nella domanda che cosa è Dio, la risposta a quest'ultima domanda comporta per lui un percorso negativo per il concetto metafisico, un rovesciamento interno alla stessa domanda, un passaggio all'essere che si oppone al mero pensiero e infine il ritrovamento della verità più profonda di Dio nel carattere affermativo, cioè unificante, della negazione e nella conciliazione degli opposti. In questo contesto la distinzione kantiana dell'esistenza dai predicati reali ha per Hegel una sua relativa validità, che tuttavia viene vanificata se poi non viene riportata alla concretezza dell'idea di Dio e dunque al concreto come pensiero, il cui compito si riassume nel riconciliare le totalità che risultano ultimamente opposte nella loro reciproca libertà. In questo potere di riconciliazione si fa palesa il vero significato dello spirito. Grazie.